Una giornata importantissima per Cittaslo, finalmente Cittaslo International ha la sua sede qui a Dorvieto in una delle quattro città fondatrici, si rinnova l'impegno da parte dell'amministrazione comunale di sostenere l'associazione e abbiamo un luogo splendido nel quale tutti troveranno casa, tutte le Cittaslo, tutti coloro che vorranno conoscere il nostro movimento, finalmente avranno un luogo fisico nel quale incontrarci e nel quale incontrarsi. Oggi è altrettanto importante la giornata anche per la rete italiana, dopo un periodo di difficoltà con il commissariamento da parte della rete internazionale, finalmente il nuovo board nazionale della rete Italia si ricostituisce, 14 membri del coordinamento si impegneranno nella ricostruzione della rete e soprattutto nel rilancio dell'Italia all'interno del movimento Cittaslo e abbiamo una novità bella, importante, la coordinatrice Barbara Barondi Vigarano Mainarda, è la prima volta che una donna riveste il ruolo di coordinatrice in Italia ma anche nelle altre reti, sono sicuro che farà un ottimo lavoro insieme a tutto lo staff al suo coordinamento e l'Italia deve continuare a guidare il movimento delle Cittaslo, deve innovarsi e soprattutto deve essere capace di ridare una visione nitida del futuro a tutta l'associazione internazionale.